Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Nei prossime ore avremo un peggioramento del tempo, questo a causa di un'intensa perturbazione atlantica che ci raggiungerà proprio a partire da questa notte. Come vedete dalla grafica, aria molto umida risalirà dal Golfo di Genova e determinerà precipitazioni che potranno risultare anche abbondanti sulle nostre prealpi aerobiche e la quota neve però si innalzerà fino intorno ai 2200-2300 metri di altitudine. Quindi le temperature sono anche in progressivo aumento. Vediamo come andrà infatti nella giornata di domenica. Il tempo avremo questa profonda circolazione depressionaria con tutto il suo carico di piogge e rovesci anche intensi che investirà le nostre regioni settentrionali a partire da occidente, a partire da ovest e quindi la Valle Seriana sarà interessata da piogge persistente e diffuse un po' per tutta la giornata di domenica. Se infatti osserviamo l'animazione satellitare di oggi vedremo la prima parte avanzata del fronte atlantico che già in queste ore sta interessando il nord Italia, sta abbordando il Piemonte. Questa è caratterizzata da nubi piuttosto alte, quelle velature che hanno coperto il cielo nel corso della giornata. Però non vi sono state precipitazioni di rilievo. Attenzione invece a tutta quella massa di nuvole che ora si trova sul golfo di Biscaglia associata alla bassa pressione che si trova in pieno atlantico. Tutta questa struttura depressionaria si sposterà verso Levante e le nuvole quindi si intensificheranno nelle prossime ore arrecando le prime piogge a partire proprio da questa notte. Quindi passiamo al tempo per la giornata di domani in Valle Seriana. Abbiamo segnalato durante il giorno piogge forti un po' su tutta la zona della Valle Seriana sia nell'Alta Valle Seriana Valle di Scalve sia nella Medio-Bassa Valle Seriana Lago di Sio. Queste piogge forti dureranno per tutta la giornata. Addirittura anche nella notte avremo piogge persistenti, abbondanti. I nostri modelli matematici prevedono accumuli oltre i 100-120 mm nelle 24 ore e quindi si prega di monitorare quelle zone soggette a rischio idrogeologico. Poi come andrà invece la settimana in Valle Seriana? Il tempo difficilmente guarirà. Infatti avremo già ancora nella giornata di lunedì delle piogge piuttosto diffuse anche se saranno in forma più attenuata. Come vedete le temperature saranno nella media del periodo e comprese fra i 9 gradi di minima e gli 11 gradi di massima. Zero termico a 2600 metri di altitudine e quindi ci aspettiamo nevicate solo oltre i 2200-2300 metri di altitudine che fra l'altro andranno anche a fondere il manto nevoso precedentemente accumulato nel passato peggioramento. Martedì purtroppo ancora il tempo non sarà completamente guarito. Vedete che l'intensità delle precipitazioni diminuirà nel corso della giornata. Avremo delle piogge deboli alternate a qualche schiarita. Temperature piuttosto miti per il periodo comprese fra 10 gradi di minima e 12 gradi di massima. Ancora una volta lo zero termico si sposterà ancora più in alto a 2800 metri di altitudine perché ci sarà questo flusso sud-occidentale piuttosto mite e le quote delle nevicate saranno oltre i 2500 metri di altitudine. Il tempo finalmente dopo questo intenso e prolungato peggioramento guarirà solo a partire dalla giornata di mercoledì quando il cielo sarà pressoché sereno o poco nuvoloso e come vedete temperature molto miti per il periodo. Questo a causa dell'irribustirsi di una struttura anticiclonica che favorirà un afflusso di correnti piuttosto miti direttamente dalle Baleari. Quindi questo a flusso mite innalzerà la colonina di Mercurio fino addirittura a 17 gradi nella giornata di giovedì. Quindi sarà anche abbastanza caldo per il periodo zero termico addirittura oltre i 3200 metri di altitudine. Venerdì avremo un cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso con ancora un clima piuttosto gradevole e fortunatamente i nostri modelli matematici vedono per sabato e domenica prossime un'evoluzione del tempo abbastanza buona finalmente un weekend con il bel tempo un po' su tutta la Valle Seriana. Comunque per l'aggiornamento meteo per il weekend prossimo vi aspetto sempre qui al prossimo appuntamento su Antena 2 sabato prossimo.